C'è una cosa che mi piacerebbe davvero tantissimo vedere in Marvel Spider-Man 2 e riguarda il nostro Peter. Ora ditemi quanto sarebbe bello avere una funzione di volo per poter planare nella città. E onestamente è il bello che non penso nemmeno sia così improbabile. Proprio perché in uno degli zaini di Marvel Spider-Man ci era già stato fatto questo easter egg.